La 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 Voglio vedere la V di vendetta in aria Voglio vedere la V di vittoria in aria Come fa? Come fa? Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze d'Italia Dove fuggi? In Italia Pistole e macchine? In Italia Ma cammelle e foscolo? In Italia I campioni del mondo sono? In Italia Benvenuto? In Italia Fatti una vacanza al mare? In Italia Meglio non farsi operare? In Italia Non andare all'ospedale? In Italia La bella vita? In Italia Le grandi serate in gala? In Italia Fai affari con la mala? In Italia Il vicino che ti spara? In Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà Come fa? Sei nato e morto qua Sei nato e morto qua Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze d'Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà Come fa? Ci sono cose che nessuno ti darà Come fa? Sei nato e morto qua Sei nato e morto qua Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze d'Italia Dove fuggi? In Italia Le ragazze corteggiate? In Italia Le donne fotografate? In Italia Le modelle ricattate? In Italia Mangi pasta fatta in casa? In Italia Poi ti prendi ladri in casa? In Italia D'oltre di un lavoro fisso? In Italia Ma baci croce giusto in Italia I monumenti? In Italia Le case con i dipinti? In Italia Gente con dei sentimenti? In Italia La campagna è rapidamente? In Italia Come fa? Ci sono cose che nessuno ti dirà Come fa? Ci sono cose che nessuno ti darà Come fa? Sei nato e morto qua Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze d'Italia Ci sono cose Ci sono cose che nessuno ti dirà Come fa? Ci sono cose che nessuno ti darà Come fa? Sei nato e morto qua Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze d'Italia Dove fuggi? 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 Via di te Dove fruggi? Fuggi? 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 Grazie.